Iniziamo le domande per Sandro Tonali. Vai Carlo. Sandro, buonasera. C'era delusione nel viso di Stefano Pioli, che sarà anche la tua. È difficile o è facile andare a trovare perché questa prestazione non bella proprio sul piano tecnico, le palle perse, lo spirito? Paragono alla sconfitta con il Liverpool, se il Milan avesse giocato con quello spirito e con quella tecnica che abbiamo visto con il Liverpool, non avrebbe fatto la fatica che ha fatto oggi. Come la giustifichi tu? La penso come te, però comunque ogni partita è diversa, ogni squadra che incontri è diversa e va affrontata in modi diversi. Lo spirito che abbiamo avuto a Liverpool sicuramente oggi ci è mancato e questa partita non è stata la nostra miglior partita in Champions. Si è visto chiaramente e non bisogna girarci intorno, quindi noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada che abbiamo intrapreso prima di questa partita. Perché non è andata come volevamo, siamo partiti con fatica, però alla fine primo tempo abbiamo dimostrato di essere squadra. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto poche occasioni, loro ci hanno attaccati altri, abbiamo sofferto insieme fino a quando è arrivato l'episodio del gol. Poi da lì diciamo che è nata un'altra partita perché ogni volta che c'è un gol di mezzo ti scatta quella cosa nella testa che solo un gol preso ti può far scattare. Quindi è tutta una cosa mentale e lì abbiamo capito che abbiamo passato il nostro momento difficile della partita che è durato fin troppo secondo me, secondo tutti noi. Quindi dobbiamo prendere, prenderla come un'altra lezione perché ne abbiamo già avute con Liverpool, poi l'abbiamo avuto con l'Atletico Madrid, anche se è stata una partita un po' a parte. Poi questa dobbiamo comunque tenere tutto dentro perché è una cosa che ora ci fa male, ma in futuro ci può fare del bene e basta. Grazie. Ci sono altre domande? Ciao Sandro, Roberto Tortora, Mondo Sportivo. Volevo chiederti due cose. Detto della partita negativa, chiaramente che non influisce su altro, però come hai visto tu dal campo l'episodio sul gol di Diaz, se l'intervento ti era sembrato non corretto? E poi a livello personale, passato questa fase d'andata del girone di Champions, per te anche un'esperienza importante, quali sono state le difficoltà maggiori secondo te che hai incontrato in queste partite? Grazie. Grazie. È un'esperienza che mi ha dato finora la Champions in queste tre partite, tanta. È un'emozione comunque scendere in campo ogni partita di Champions con il Milan, soprattutto. E sappiamo che il nostro percorso non è ancora finito, perché il Milan è capace di fare tutto, quindi noi sicuramente non ci butteremo giù e tireremo fino all'ultimo minuto di Champions League come sa fare il Milan. Grazie. Altre domande? Grazie a tutti e buona serata. Grazie.